Per la terza volta consecutiva è più verde l'erba del vicino, inteso non come il per solito invidiato uomo della porta accanto, ma come il nome dello stadio di Gravina. Anche oggi infatti il Bitonto l'ha espugnato con merito, tornando alla vittoria a quasi due mesi dal successo sul portici. Superato lo stop forzato causa Covid, mister Ricolaragno designa saldi baluardi arretrati Colella e Petta, piazza nel mezzo Biason, ago della bilancia, i cui piatti che andranno su e giù senza posa saranno il gladiatorino Mariani e l'incontenibile Piarulli, oggi in edizione 19-20. Basculante fra la linea mediana e quella avanzata l'Arguto Montinaro, ognora al servizio della coppia letale Lattanzio Palazzo. Gaburro, dal suo canto, si affida all'oceanica esperienza di Chiaradia e De Gaulle, che non saranno omen omen, al fosforo arcigno di Vicedomini e De Feo, la classe di Ficara davanti ad illuminare per Divanni e Benkalec. L'approccio dei Neroverdi al match sarà di Belluina a Possa. Minuto 7, Biason Arpione il cuoio a centrocampo innesca Palazzo sull'auto di destra, cross radente e spaccata vincente di Lattanzio, 0-1. Poco prima del quarto d'ora un'occasione per parte. Prima sinistro avventuroso di De Feo, con sfera che si perde sulla Murgia. Poi, scivolata tanto providenziale quanto disperata di Chiaradia, a sventare un elegante cross d'esterno di Montinaro. Al diciannovesimo dialogo Palazzo Lattanzio sulla destra e conclusione pretenziosa dell'Andriese. E' il ventiduesimo quando Montinaro prova una mezza girata flebile, pallone che rotola fuori. A cinque primi dalla mezza, ad impreziosire la manovra bitontina, è ancora l'asse Palazzo Lattanzio, ma il sinistro del puntero è impreciso. Minuto trentatré, viluppo la Oconteo fra De Feo e Nannola, pallone che galleggia nell'aere e sfiora la traversa. Trentacinquesimo, su azione da corner Palazzo calibra un passaggio chirurgico per Colella, che di testa dona gentilmente il pallone a Petros. Ad un giro di lancette dal riposo, vertiginoso contropiede e mancino fuori misura di un indemoniato Piarulli. A rientro dagli spogliatoi, i leoncelli, se possibile, ringhiano ancora più tonanti. Dopo un punto giustamente annullato a petta per fuorigioco, raddoppiano al quarto. Disceso ubriacante di Nannola e cross perfetto per Palazzo, che quasi di volé impatta, sfera sul palo e poi nel sacco. Al minuto 17, destro affilato di Gionai, di tuffo Figliola, vanifica il tentativo gialloblu. Al ventunesimo, ancora Loris per Ricchi, in celere ribaltamento di gioco, senza vigore la pseudo botta. Unico e ultimo brivido per gli ospiti, al secondo minuto di recupero, per un sesquipedale buco di Figliola sul lancio chilometrico gravinese. Ma, per fortuna, la città murgiana non è sorrento e tutto si risolve con un fallo laterale innocuo. I uomini del patron Rossello tornano finalmente a sorridere e, soprattutto, a somigliare di più a quel che sono per davvero.